I mercati mondiali hanno subito un bell'inciampo in questi giorni, hanno subito perdite notevoli. C'è un clima evidente di paura, paura di una crisi economica, paura di una fase di recessione, paura che è catalizzata da questo Black Swan Event che si è verificato all'inizio di quest'anno 2020, questo cigno nero che è il coronavirus, il cui diffondersi progressivo potrebbe arrivare a mettere a rischio l'economia di alcuni stati e ovviamente le aziende che la compongono. E questo ovviamente ha ripercussioni, già le sta avendo, sulla complessità dei mercati finanziari mondiali. Oggi cerchiamo di capire come da investitori possiamo affrontare uno scenario di questo tipo, uno scenario recessivo, uno scenario di correzione anche protratta dei mercati finanziari mondiali. Quindi quali asset potrebbe valer la pena tenere d'occhio, quali evitare e come strutturare un portafoglio intelligente. Ovviamente, visto che è il nostro argomento, andremo a focalizzarci, a fare un focus su quale potrebbe essere il ruolo di Bitcoin in uno scenario di questo tipo. Quindi bene rifugio, bene correlato al resto dei mercati, da evitare una novità assoluta, ne parleremo e sarà una chiacchierata interessante. Buonasera amici criptinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi ci allarghiamo un po'. Come vi dicevo, andiamo a inserire Bitcoin in uno scenario macroeconomico che coinvolge i mercati azionari e la finanza mondiale, cercando di capire appunto quale può essere il suo ruolo, ma chiacchierando appunto in maniera più ampia, partendo dallo scenario macroeconomico. Il mio scopo non è seminare panico né urlare crisi, 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 perché sapete bene che non è il mio modo di fare, ma lo scopo è proprio cercare di affrontare, come invece è appunto il mio modo di fare, con estrema razionalità gli scenari che si potrebbero presentare ai nostri occhi, in quanto appunto investitori. E quindi cercare di capire come posizionarci noi stessi, ovviamente col focus, come vi dicevo, su Bitcoin. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, a voi non costa nulla e per me è tantissimo importante, perché mi incentivate veramente a produrre, a continuare a produrre contenuti sempre più di qualità, sforzandomi al massimo. Vi incentivo anche a iscrivervi al mio canale, mi raccomando attivate anche le notifiche, così non vi perdete nemmeno un video sui Bitcoin, sulle cripto, su tutti gli argomenti che tratteremo, e seguitemi anche sugli altri canali social, per idee di mercato, analisi, tutto ciò che mi passa per la mente, link in descrizione. Ora andiamo a farci la nostra chiacchierata e a vedere un po' di grafici. Anche se oggi hanno fatto un rimbalzino di recupero, gli indici principali della Borsa Mondiale sono in inciampo. Hanno perso in pochi giorni i guadagni di oltre un mese, alcuni hanno rotto dei supporti, e quindi esponendo di fatto ad uno scenario correttivo. Diventerà una fase di crisi e di recessione? Non lo possiamo ancora sapere, perché è uno scenario che si deve ancora sviluppare, siamo solo ai primi effetti, però il rischio c'è. E laddove c'è un rischio, un buon investitore si deve chiedere come fronteggiare questo rischio, come strutturare il mio portafoglio, come affrontare la situazione, ed è proprio la domanda alla quale vogliamo risolvere oggi. Questo è l'indice Standard & Poor's 500, giusto per darvi qualche esempio, l'indice della Borsa Americana, dello stock market americano, che ha rotto a ribasso un supporto importante, ha perso tantissimo in pochi giorni, più di un mese di guadagni, e inoltre ha dato una botta direzionale, ovviamente ribassisti, innescando di fatto una fase correttiva, che dobbiamo vedere poi come si andrà a sviluppare. Lo stesso vale ovviamente per la Borsa Europea, l'Eurostoxx 50 anch'esso ha bucato un supporto importante, in primis guidato dal DAX, che è l'indice della Borsa tedesca, il Fuzzimib, ovviamente, che recentemente ha subito le perdite più importanti, proprio per l'esplodere, l'outbreak del coronavirus in Italia, che ha scosso parecchio. Il Fuzzimib era messo molto bene, la Borsa italiana era messa molto bene recentemente, aveva appena rotto una resistenza importante, e infatti aveva dato una bella spinta rialzista. Tuttavia, questo Black Swan Event ha dato un po' appunto una scrollata, e ha incrinato le fondamenta di questo rialzo, mettendo seriamente a rischio la Borsa italiana, e tra poco andremo ad approfondire anche questo tema. La Borsa Asiatica è quella che ha reagito, sta reagendo al momento un po' meglio, perché ovviamente ha avuto la sua batosta, questa è la Borsa di Shanghai, ad esempio, nelle settimane scorse, ovviamente, il momento di outbreak del coronavirus, nel loro paese, in Cina. E quindi, insomma, adesso sarà anche interessante vedere come continua la sua reazione, un po' per capire anche quali potrebbero essere gli esiti dopo un po' di tempo, rispetto al diffondersi di questo virus. Detto questo, insomma, abbiamo capito che la situazione mondiale non è delle migliori. Il rischio di una recessione è presente, una fase correttiva è iniziata, e quindi dobbiamo capire quale potrebbe essere l'evolversi di questo scenario. Dal punto di vista, diciamo così, mondiale, di geopolitica e di economia, le cose che potrebbero influenzare l'andamento dei cicli economici potrebbero essere, in primis, adesso parlo ovviamente delle cose più importanti, in primis l'evoluzione del diffondersi del coronavirus in Europa e negli Stati Uniti, che sono un po' i due fulcri economici mondiali, in Europa, parlando in primis dell'Italia, che è il paese più a rischio, là dove c'è il focolaio più grosso, nel caso in cui dovesse arrivare la diffusione a Milano, ipotizziamo, si potrebbe rischiare tantissimo nel mettere in ginocchio molte aziende, che non sono solo aziende italiane, chiaramente a Milano, Milano è un po' un centro economico che ha risonanze importanti in tutta Europa, ma non solo, è diventato sempre più importante anche a livello mondiale, quindi il mettere in ginocchio una città come Milano, riducendo la produttività delle aziende, per via di discorsi di quarantena, magari dei dipendenti, che quindi per forza di cose dovrebbe ridurre i suoi cicli produttivi e il fatturato di conseguenza, ed inoltre si ridurrebbe anche notevolmente la domanda perché c'è isolamento, perché le infrastrutture rischiano di non essere all'altezza e quindi non si riesce a sostenere la produttività e di conseguenza i profitti delle aziende rischiano di calare notevolmente. Questo poi diventa ancora più risonante nel caso in cui in Europa, ovviamente dall'Italia la diffusione più facile è in Europa, nel caso in cui ci fosse una diffusione a livello europeo, arrivando a dei centri importanti come potrebbero essere Dublino, dove ci sono le aziende tech, piuttosto che Londra, dove ci sono molte aziende economiche, nonché finanziarie. Capite bene che il fenomeno potrebbe avere una risonanza ancora maggiore, dare il via un po' a un effetto domino che porterebbe ad estremo rischio l'economia dei paesi sviluppati. Questo ovviamente diventerebbe, arriverebbe al culmine, nel caso in cui gli Stati Uniti finissero vittima di questo contagio. Lì chiaramente ci sarebbe il danno maggiore, in quanto l'economia statunitense è l'economia trainante mondiale. A questo ovviamente ci si va ad aggiungere il fatto che l'economia statunitense, principalmente, è in una fase di bolla pazzesca, perché se voi andate a vedere l'andamento dello Standard & Poor's 500 che abbiamo citato prima, potete vedere che è in bolla dal 2009, che è stata l'ultima fase correttiva di recessione vera e propria, la crisi del 2008, che ha visto calare del 50 e oltre per cento l'indice Standard & Poor's 500, quindi il mercato azionario. È un secondo calo di quell'entità, perché ovviamente negli anni 2000, la crisi dei primi anni 2000, c'è stato un calo di simile entità. Dopodiché è partita una bolla che per oltre dieci anni ha visto un bull market pazzesco nell'azionario. Il bull market più potente, più marcato della storia, 350%. Quindi questo da sé apre le porte a una fase recessiva, cioè c'è bisogno di una fase recessiva. Il mercato azionario è ciclico, non va avanti a salire per sempre, ogni tanto si sgonfia, così come tutti i mercati mondiali, anche Bitcoin, ovviamente con tempistiche, ritmi e entità e volatilità diverse, però le leggi del mercato sono uguali per tutti. E quindi questo già tende estremamente l'elastico. Che cosa ci vuole? Ci vuole proprio un evento scatenante, un Black Swan event, piuttosto che un qualcosa che dia il via, butti giù la prima tesserina del domino e inizi a far partire appunto questa fase recessiva. L'altra variabile, che secondo me è preponderante, potrebbe essere l'esito delle elezioni presidenziali statunitensi di quest'anno. Perché nel caso in cui dovesse vincere Trump, che sappiamo quello che ha fatto nella sua ultima candidatura, potrebbe drogare ulteriormente il mercato e quindi magari allontanare ancora un po' la fase recessiva o almeno provarci. Questo ovviamente nell'immediato porterebbe ad un aumento magari ancora del mercato azionario, però poi farebbe danni sicuramente sul lungo termine. Sappiamo bene come si è comportato, nel senso che ha drogato durante il suo mandato il mercato statunitense, poi a scapito magari anche degli altri stati. Il suo motto è sempre stato America First, quindi ha fatto delle politiche fortemente pro-americane, cercando di indebolire l'Europa, insomma ha partecipato anche nella campagna della Brexit, ha cercato di fare veramente tutto il possibile per indebolire l'Europa a suo vantaggio, perché divide et impera, era un po' il suo motto, indebolendo gli avversari si rafforzava lui, non aveva più bisogno della Cina per le forniture energetiche, per altre cose, boh, allora indeboliamo anche la Cina, guerra dei Dazi, cose di questo tipo, insomma una politica di questo tipo qua molto incentrata sull'economia americana per drogarla il più possibile nella maniera meno sana poi sul lungo termine. Questo inoltre unito al fatto che voleva mettere il naso addirittura nelle decisioni di Powell, della Federal Reserve, voleva inondare di liquidità i mercati, fare di tutto insomma per potenziare quella che è l'economia americana nella maniera meno sana possibile. Fortunatamente la Federal Reserve è un ente indipendente dalla presidenza e quindi prende decisioni ed è giusto che sia così senza la sua parola. Però ha voluto dire la sua anche lì insomma per far capire che personaggio è per chi non l'avesse ancora capito. In ogni caso abbiamo capito un po' il quadro generale, insomma una bolla iperestesa, mercato drogato il più possibile e il rischio che questo Black Swan Event faccia partire un collasso generale, una fase recessiva. E questo ci spinge alla nostra domanda principale. Come lo affrontiamo? Come proteggersi? Dove rifugiarsi nel caso in cui il mercato azionario che è ciò che ha trainato di più i guadagni nell'ultimo decennio dovesse invertire la rotta e andare in recessione? Dove rifugiarsi nel caso in cui il mercato obbligazionario, i bond, danno rendimenti negativi che è il caso attuale ovviamente? Dove rifugiarsi quando addirittura sul cash, quindi sulla liquidità in conto corrente, vengono applicati interessi negativi? Bella domanda e cerchiamo di affrontarla razionalmente andando a fare una disamina di diverse asset class. La prima asset class che viene in mente come stabilizzatrice di portafoglio nonché decorrelata o addirittura a volte inversamente correlata al mercato azionario sono le commodity, le materie prime. Il mercato delle commodity è quello forse più interessante, in particolare visto anche il suo trend, perché chiaramente non c'è solo da guardare come un mercato è correlato con un altro come stocks e commodity ma anche come un asset class è posizionato in una sua ciclicità interna perché così come l'azionario sale e scende ad intervalli ciclici per l'appunto così vale anche per le diverse asset class quindi bisogna mettere un po' insieme tutti questi elementi. Commodities per me significa principalmente due materiali, due asset. l'oro è il primo che è quello che al momento è più interessante in assoluto perché è in uptrend vedete questo è il grafico mensile è in uptrend anche di macro quindi su un ciclo pluriennale vedete che i massimi e i minimi sono crescenti deve approcciare questa resistenza qua abbastanza importante sì però è molto molto ben impostato e sono sicuro che sono sicuro no di sicuro c'è solo la morte però c'è probabilità discreta che nel caso di recessione del mercato azionario molti si vadano a rifugiare sull'oro quindi potendo come dire partecipare alla rottura di questa resistenza tra l'altro per chi è interessato a investire in oro senza gli oneri dell'investimento in oro gli oneri di gestione gli oneri fisici proprio esiste un token questo dedicato soprattutto ai nostri cripto investitori che sono sicuro molti di voi lo sono perché se mi seguite lo siete è PAX Gold che è un token legato proprio al valore dell'oro che dà il diritto alla riscossione fisica anche eventualmente dell'oro quindi non è un qualcosa di creato virtualmente ma è un token su blockchain quindi che dà diritto cioè è legato al valore dell'oro effettivamente il prezzo lo prende tramite un oracolo che prende appunto il prezzo dagli exchange che trattano oro e inoltre appunto è legato all'oro fisico quindi ripeto non è un qualcosa di virtuale è un'ottima alternativa anzi per me sinceramente è un qualcosa di prioritario rispetto all'investimento in oro se dovessi investire in oro punterai su quello per chi fosse interessato ad approfondire consiglio di rapidamente cercare su Google e ci si schiarisce in fretta le idee magari in futuro ci dedicherò anche un video perché no detto questo il secondo asset interessante sotto l'asset class commodity è l'argento l'argento è da sempre uno stabilizzatore di portafoglio a parte questa bolla tra il 2010 e il 2015 tuttavia vedete anche adesso in una fase discretamente stabile non si muove più di tanto e quindi potrebbe essere un asset interessante solitamente nei periodi critici ecco tende a stabilizzare tende a perdere meno quanto meno dello stock market e come in ottica diversificativa perché poi non ha mai particolarmente senso cercare di prevedere quello che accadrà ma in ottica diversificativa se si vuole fare qualcosa sulle commodity può avere senso anche avere una piccola parte di argento sicuramente darei molto molto più peso all'oro visto il trend generale e la situazione ma anche l'argento potrebbe avere il suo perché infine il palladio è l'altro asset insomma l'altra commodity che ultimamente ha dato molte soddisfazioni però purtroppo è in bolla astronomica quindi sinceramente non me la sentirei a diversificare un portafoglio che non sto parlando di speculazione ma proprio di asset allocation mettendoci dentro anche il palladio ecco se voi avete qualche altra commodity che seguite che suggerite insomma scrivetemelo nei commenti ci confrontiamo sarà interessante per me le principali commodity rimangono appunto oro e argento dopodiché abbiamo il bond market quindi le obbligazioni le obbligazioni le liquido abbastanza in fretta perché a parte che è un mercato che a me non affascina particolarmente lo equiparo solitamente al cash a un po' liquidità diciamo poi con le agevolazioni fiscali e tutto quanto insomma quando hanno dei buoni rendimenti ha senso quando hanno dei cattivi rendimenti non ha senso e questo ovviamente è il caso 2 a meno che non si voglia andare su scadenze lontanissime oppure su i bond di paesi o aziende a rischio default che secondo me non è proprio cosa insomma andare a fare speculazione sui bond non è che sia proprio ecco il massimo e poi abbiamo detto il cash allora il cash secondo me paradossalmente è uno dei mali minori in fase recessiva perché nonostante ci sia il rischio di avere interessi da pagare sui depositi alti sul conto corrente ci sono dei modi un po' smart di farli fruttare insomma adesso tra poco venne di compaio ma altrimenti anche non lo so dei banalità come dei conti depositi dei piccoli fondi di prestito piuttosto che i rate nel mercato immobiliare insomma un qualcosa per ricevere cedole per ricevere qualcosa in cambio cioè investendo allocando il proprio cash in ogni caso il cash è quello che fa forse in percentuale la maggioranza del mio portafoglio in una fase recessiva del mercato azionario proprio per la sua il suo potere stabilizzante e la possibilità di utilizzarlo nel caso in cui si presentino si dovessero presentare occasioni di diverso tipo abbiamo citato i rate quindi il mercato immobiliare è sicuramente interessante in questa fase poi insomma che c'è una maggior facilità di erogazione di prestiti tassi di interesse più bassi eccetera eccetera sicuramente è in fase espansiva il mercato immobiliare in particolare in alcune aree quindi vabbè i rate sono un po' un'esclusiva americana quindi potrebbe non essere facile averne accesso l'immobiliare richiede cioè l'acquisto proprio di come dire di immobili richiede un capitale notevole quindi anche lì potrebbe esserci difficoltà però ecco se si ha l'opportunità di investire in qualche modo in maniera magari anche in diretta tramite insomma anche lì ci sono piattaforme smart che stanno nascendo adesso di crowdfunding immobiliare simili sicuramente può essere un'opportunità interessante tenete conto per gli investimenti smart che infatti questa è un'altra categoria che volevo affrontare adesso e affrontiamola come possono essere i crowdfunding immobiliari i prestiti peer-to-peer la DeFi la Cefai per i nostri amici criptoinvestitori DeFi e Cefai per capirci sono come dei prestiti peer-to-peer ma collateralizzati con criptovalute quindi secondo me anche più interessanti e meno rischiosi paradossalmente dei loro colleghi tradizionali come possono essere Bondora Maintos e simili e appunto può essere interessante utilizzarle queste piattaforme ma tenendo ben presente che c'è un rischio legato sono cose nuove sono cose rischiose quindi non esageriamo con l'allocazione e poi arriviamo al dunque bitcoin le cripto cosa sono come si pongono in questo pazzesco scenario allora io vi dico subito che non credo nella retorica di bitcoin come bene rifugio perché è un asset ancora estremamente volatile e questi giorni direi ce ne stanno dando le prove e quindi non credo che nessuna anima razionale abbia intenzione di rifugiarsi sovrespondendosi su bitcoin non accadrà mai questo è poco ma sicuro togliamoci dalla testa questa favola tuttavia io credo che bitcoin in ottica diversificativa paradossalmente potrebbe essere interessante per quale ragione la prima ragione è il suo trend è un trend che dal punto di vista macro è crescente al momento perlomeno adesso è in cerca si spera di un higher low vedremo come si imposterà in questo periodo e nel caso in cui lo trovi insomma potrebbe valer la pena andare a esporsi un pelino di più magari se vediamo che il bull market continua io credo che sia in un periodo storico molto interessante perché l'halving che sapete bene come la penso a riguardo se avete visto i miei video non sono bullish a prescindere sull'halving ma comunque penso che gli darà molta esposizione mediatica questa esposizione mediatica invece è bullish di per sé perché comunque fa conoscere bitcoin ha attraversato una fase per cui ci sono disponibili molti strumenti anche per gli investitori istituzionali ed inoltre è un asset class nuova non abbiamo mai visto il suo comportamento in presenza di una crisi economica quindi non possiamo prevedere e neanche avere dei dati per provare a capire che cosa accadrà tuttavia è un asset discretamente decorrelato cioè è ben decorrelato dai mercati tradizionali e quindi secondo me ha senso andarlo a seguire e investire una parte del proprio portafoglio chiaramente deve essere la punta della piramide perché è l'asset più rischioso attualmente in assoluto le cripto al di là di bitcoin ovviamente è la punta della punta della piramide però il mio consiglio se voi non siete cripto investitori e siete arrivati qua interessati magari dall'argomento del video è di approfondirlo bitcoin di cercare di capirlo e di capirne l'economia e i cicli diciamo così come si muove negli scenari economici i suoi scenari economici perché è veramente affascinante al di là della speculazione e al di là di tutto ovviamente la speculazione in sé ha un piccolo ruolo anche nel portafoglio perché adesso non so se uno semplicemente alloca i fondi e poi se ne dimentica ma penso che sia abbastanza rara come cosa per questo motivo un'altra possibilità sono non l'ho citata prima scusatemi per questo ma sono gli etf short sull'azionario per i quali inizia ad aver senso avere una piccola esposizione perché quelli sono sì speculativi nel momento appunto di inizio recessione di primi segnali di recessione questi contribuiscono appunto a bilanciare le perdite magari delle stocks più stabili tipo coca cola e pepsi quelle che abbiamo citato prima si compensano molto molto bene poi andando ad aggiungere i dividendi dell'una e insomma diventa un paniere interessante ovviamente sullo short di solito l'esposizione io la mantengo tendenzialmente più bassa ma per il comportamento generale del mercato azionario questo ritornando invece all'ecrito bitcoin è un po' un esperimento ecco sicuramente l'essere completamente decorrelato dal mercato azionario tradizionale è ciò che lo rende molto appetibile e che vale insomma fa valer la pena quantomeno seguirlo tenerlo sotto il radar e poi il volerci entrare oppure no ovviamente dipende tutto dalla propria propensione al rischio se siamo investitori giovani con propensione al rischio insomma smart in grado comunque di seguire un grafico con un'operatività anche più veloce il mio consiglio è comunque di allocare una piccola parte del proprio portafoglio a bitcoin perché questo potrebbe insomma andare a compensare nel caso in cui ci fosse un bel ciclo rialzista di bitcoin nel caso in cui l'up trend che si sta formando venisse confermato potrebbe appunto andare a compensare eventuali perdite del mercato azionario o comunque andare a bilanciare in generale il proprio portafoglio e aggiungere un'altra fetta alla torta della diversificazione il fatto che appunto sia un asset che non ha precedenti lo rende ancora più appetibile secondo me cioè un investitore moderno non può andare a escludere bitcoin secondo me dalla propria torta di investimenti del portafoglio detto in breve ha delle caratteristiche uniche volatile rischiose tutto quanto ma è estremamente affascinante e inoltre ha un potenziale che secondo me nessun altro asset al momento ha dal punto di vista proprio dei fondamentali e poi ovviamente c'è anche ethereum se uno vuole andare ad aggiungere un pizzico di peperoncino ecco a questa grossa frittata ok quindi questo è un po' quanto la torta penso che l'abbiate capita gli asset sui quali sto tenendo il focus sono questi e adesso c'è un po' da vedere come si svilupperà questo scenario quindi continuerà la fase regressiva vedremo vedremo come si comporteranno le commodity vedremo come si comporterà bitcoin e in tal caso decideremo di esporci di più o di meno sull'uno o sull'altro voi mi raccomando continuate a seguirmi che così ci aggiorneremo in futuro e voi come avete intenzione di comportarvi nel caso di recessione pensate che sia probabile una recessione oppure che sia ancora presto ditemi la vostra qua sotto nei commenti e ci confrontiamo come sempre vi auguro una buona serata e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti